Sono contento che avete partecipato a questa missione segretissima di perlustrazione di questo territorio così difficile. Tutti hanno paura, tutti si fanno sotto. Come lo piccino, io non riesco a capire perché, per quale motivo. Da dove vieni tu? Francia, Lyon. Lyon, la Francia Lyon, bella bella. Tu? Francia Giraffe. E tu? Italia Molfetta. Da Molfetta, da Molfetta. In questo territorio non servono le armi, non servono le armi perché, eh sì sì sì, questa è la caratteristica. Voglio solo la vostra forza, la vostra energia. Non ci sono animali molto pericolosi, oddio ce n'è uno che vale per tutti. Il famoso serpente corallo. Il serpente corallo? Hai sentito parlare? Sì sì sì, sentito la televisione. Come è fatto? Perchè c'ha questo colore giallo e nero, giallo e nero, le strisce. Giallo e nero. Come lo vedete questo serpente corallo? Non servono le armi. Non servono le armi, perché se qualcuno di voi lo vede, esce questo serpente corallo, immaginate, uscite i diti. Le dita, vabbè, uscite le dita e fatti così. Giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero, come la canzone giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero, voilà, in dalle ecchie. Così, giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero, voilà, e la avete preso perché lui se l'intende, giallo e nero, rimane così, boom, nell'occhio, preso il serpente corallo. Provate? Giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero, voilà. Forza, tu verso la collina. Sì 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 sì. In bocca al lupo. Sì 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 Grazie. Grazie. Beh, si è conclusa questa missione impossibile, complimenti bravi, vi vedo soddisfatti anche se stanchi. Sì, sì, signore. Com'è andata lei? Benissimo, signore, guarda, ho incontrato qualche animale feroce, ma nessun problema per me. E te? Benissimo, comandante, non ho incontrato nessun animale feroce. Nessuno. E ne è stato meno il serpente corallo. Niente? Eh, niente. E Joseph? Mi dispiace pure. Joseph? E Joseph? Dove sta Joseph? E che ne so? Boh. E quello and... Oh! Joseph? Joseph! Commette che hai trovato il serpente corallo, Joseph! Trovate? È uscito da un cespuglio che sembrava il serpente corallo. Non sembrava il serpente corallo, ve l'ho spiegato, non hai fatto giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero, toc! Ho fatto, ho fatto, Zà. Beh? Ma tu hai mai provato a mettere due dita in gulla in una tigra? Mado. Zà, le nero, giallo e nero, giallo e nero, giallo e nero. Zà, le nero, giallo e nero! Grazie a tutti.